Ciao ragazzi, bentornati su Kirby Star Allies. Nello scorso episodio abbiamo fatto la terza dimensione di eroi in una dimensione parallela e oggi finiremo questo gioco facendo l'ultima dimensione, la numero 4. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace e andiamo. Allora vi dico subito che ho mal di gola quindi se sentite qualcosa di strano della tosse o cose del genere è per questo insomma. Allora, sto registrando la domenica quindi questo video lo vedrete lunedì e devo fare le cose in fretta perché sono veramente indietro con i video. Sto preparando il prossimo let's play e mamma mia è una cosa epica ve l'assicuro è epica. Allora, c'è roba? Mi sa un gran casino questo coso. Tutti calmi. Allora, di qua c'è qualcosa? Non c'è niente quindi devo seguire questo. È salito di qua. ok, spero di non mancare nulla. Spero davvero di non mancare nulla perché questo è l'ultimo livello, non ho mancato niente fino ad ora. Allora. Ok, abilità lama. Io odio l'abilità lama. Ah, brutti ricordi. Allora, direi al posto di Magolor. No, di Susi. Di Susi. Ok. Allora. Anzi, facciamo così. Magolor può dare vento. Ok. Grazie mille, Cilli. La stavo per mancare quel cuore. Stavo per mancare quel cuore. Mamma mia il mio italiano. È vero. Quanti elementi posso avere? La miseria. Cioè. Posso avere il ghiaccio? Oh. Cioè, che cavolo? Quanti elementi posso avere? Ok. Quel cuore è mio. Perfetto. Ok. Sta a vedere uno di questi. Grazie, Magolor. Dovrà cadere di così. Ok. Nessuno deve prendere quella cosa. Ok. Quello è mio. Quello è mio. Ok. Ho sbagliato. Quanto scommettete che ho sbagliato? Ah, devo rifarmi tutto il giro. Intanto... Mi riprendo la buffera, perché è buono. Ho visto qualcosa di diverso, però... Non l'ho vista... L'ho vista solo all'ultimo. E non ci ho fatto tanto caso. Allora. Ok. Tanto per riprendiamo un po' di stelle. Ora, mi dispiace se ho un po' di mal di gola e devo fare questo video. Però, ripeto, sono molto indietro con le registrazioni. Questa registrazione dovrebbe uscire domani. Quindi, davvero... Ho pochissimo tempo. Allora. Quello lì, come si fa a prendere? Ah. Dovevo colpirlo. Ma va. Ok. Qua non c'è nulla. Ok, eravamo anche alla fine. Magolor! Quindi potrei levare te. Non posso levare coso. Vabbè. Ed ecco qui Magolor. Ora, c'era un attacco di Magolor che non potevo fare. Evocalor. Questa attacco mi sa OP come lo schifo. Ed di Magolor devo solo tenere premuto A. Devo solo... Tenere premuto A e posso volare. Com'era l'attacco? Fermi. Del buco nero. in aria. Su e B. Ok. L'ho vista all'ultimo. Ok. Su e A... Su e B era coso? La lama. No. Dai, oh, ma non ve ne sconfitto? Quanto ci mette? Oh... Oh... Oh, io, oi. No. Ah, devo farmi... Su, fammi fuori. Lo riprendo tanto per al posto... Di Cili, dai. Tanto ora devo buttarmi di sotto. Mi dispiace. Preferisco in parte... Ehm... Andare KO Che... Rifare tutto il gioco da capo. Perché davvero... Non ho tempo per rifarlo da capo. Allora, al posto tuo. Nooo. Ok. Io inizio già a bombardare questa qui. Ok. Senatore! Oh... Grazie a tutti. Ok, ce l'ho fatta all'ultimo. Mamma mia, ho avuto un'attachicardia. Oi oi. Scusate del silenzio, ma davvero, questi ultimi livelli sono... Ok, no, questo non fa nulla. Questi ultimi livelli sono un po' rompiscatole. No. Ora sta a vedere, devo stare attento ai cuori. Ok, qua. Ehm, come devo fare? Non lo distrugge? Ok. Andiamo. No! Ne va. Ok, questo devo distruggerlo. Questo attacco va oltre le pareti? Questa fiammata. No. Ok. Ok. Porta extra. Ah, speriamo che questo livello duri... No, chili! No, chili! Ok. Ho sbagliato, dovevo lanciare le bombe. Vero. Eh, riproviamo. Sì, dovevo lanciare le bombe. Eh, vabbè. Allora, qua cosa c'è? C'è un bel po' di roba. Siamo a 8 su 30. Ce la possiamo fare. Sono quasi a un terzo. Ah, poi queste sfere sono a ricerca. Quindi è una bella cosa. Allora. Queste qua, come si distruggono? Solo per chiedere, eh. Sapete. Eh, no, non hai capito, gioco. Io queste devo distruggerle. Eh, come si distruggono? Eh, scusate, ma devo capire questa cosa. Come si distruggono quegli affari? Intanto. Allora. Qua. Tanto per prendo lui. Per disperazione. No, come si distruggono? Davvero? No, te non hai capito nulla. Ok. Sta a vedere da usare la lore. Perché secondo me la lore funziona. Ok. Allora. Venite qua, per favore. Esatto. Dovevo usare la lore. Però la lore da sola può andare. No, la lore da sola non può andare. Quindi per forza dovete essere in compagnia. Allora. Taranza. Perfetto. Taranza a me. C'è qualcosa? No. Anche la host di Taranza per me è bellissima. Davvero. Allora. Allora. Un attimo. Se è tutto così, no, eh. Che devo fare? Scusa? Un attimo, eh. Scusate, ma non sto capendo. Intanto te vieni da me. Al posto di Bombi Bros Junior. Ok. E lì devo averne un'altra blu. Mmm. I don't get it. Allora, qual era l'attacco tela? Ok, dovevo solo tenere premuto B. Ora. Qua c'è la chiave. Come faccio a spostarla laggiù? No. 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 Ho capito come si fa. Però c'è un problema. C'è un problema di fondo. Allora. Qui va bene il rimbalzo. E ci siamo. Ok. Fin qua ci siamo. E ora come si fa? Perché se utilizzo questo... No, devo... Devo utilizzare quel coso. L'ho distrutto. Se vado via ricompare... O devo per forza andare KO? Devo per forza andare KO. Mamma mia. In quest'ultimo livello sto facendo veramente, veramente schifo. Come si fa però? Come si fa però? C'è... Un attimo, eh. No, non si può fare in aria. Quindi... Non posso farlo in aria il coso. Sto cercando di capire, eh. Perché... Forse devo usare quelli sopra. Allora... Allora... Se io lo piazzo qua... No! Ce l'ho fatta! Al limite dovete farlo. Proprio al limite. Oh, mamma mia. Mi sollevato questo pensiero. Quello come si fa? Ok. Devo usare i fulmine della regina. C'è un trick. Intanto preso. Ok. Non sto afferrando. Allora... Questi davvero... Ma io sono un genio! No, sono un genio! Cioè, l'ho rotto! L'ho rotto e... No, dai. Ma perché non mi danno il premio Nobel dalla mia intelligenza? Cioè... Vabbè. Allora, vai. Ovviamente questa è tutta ironia e effetto di antibiotici per il mal di gola. Ai, ai. Allora. Vai. Cioè, che cavolo! Stava andando così bene! Avevo fatto questa cosa... Come? No. Perché è sparito? Fermi. E non sparire. Ok. Dovete proprio essere al limite. Al limite preciso. Perché questa è già in kidama? Oh. Perfetto. Ora. La cosa deve essere precisa. Questo lo rompo così si collega. Questo tanto per... Così mi levo il pensiero. Questo devo levarlo. Perfetto. Ora questo, contando un blocco in più, devo eliminarlo. Questi tanto per... Li levo. Perfetto. Ora. Perfettissimo. Adesso. Quello al centro non devo beccarlo. Quelli ai lati invece sì. Quindi. Uno. Due. Ok. Non devo per niente beccare quell'altro. Ok. Venite tutti qua. Non dovete muovere un muscolo. Ok. Perfetto. Ora. Come è i fulmini? I fulmini sono della regina. Fantasma e la regina. Giù e subì. Ok. Devo muovermi. La tranza è lento. Davvero lento. Anche quando vola. È lentissimo. Mi sa che lui più che altro può essere di supporto. Da notare che questa cosa ha la forma di un fiore. Quindi. Vabbè. Ok. Susie. Ricordo. Niente spoiler. Per chi non ha mai giocato a questi giochi. Niente spoiler. Perché il tizio dietro. Io sono già giocato a questo gioco. A quello da dove viene Susie. Planet Robobot. E ve l'assicuro. È bellissimo. Davvero davvero bello. Allora. Andiamo. Adesso. Abbiamo usato. A quel paese. Vai. Allora. Abbiamo utilizzato. Tanto per le potee. Allora. Abbiamo utilizzato. Magolor. Poi Taranza. Poi ora Susie. E dovremmo aver finito il terzo DLC. Allora. Quindi. Sè. Dei personaggi da utilizzare. Ora. Qua dice. Ghiaccio. Succoso. Ok. E' bellissimo. E' bellissimo. C'è Susie Glaciale è bellissima. Allora. Devo fare di qua. No. No. Come si fa? No. Fermi eh. Vai. Non posso. Un attimo eh. C'è. Come si fa? Adà. Non posso andare KO. Ah. Dovevo. No. Ma. Dov'è un burrone? No. Davvero. Sto facendo veramente schifo. Ok. Non darmi vita. Devo andare KO. A suon di bombe ce la farò. Ah. Cavolo. Mi dispiace. Devo andare KO. Però davvero. Proprio in quella maniera doveva essere fatto. Sono proprio. Ah. Anche saltando Susie è invincibile. Vabbè. Ok. Per favore mandatemi KO. Ok. Mi dispiace tanto. Ma davvero. Non ho tempo per rifarlo da capo questo gioco. Non ho davvero tempo. Se c'è qualcosa di extra. Se si ottiene tutte le cose. Tutti i cuori. Devo farlo vedere ora. Perché davvero. Non ho tempo poi. No. È dall'altra parte Susie. Allora. Questo qua. Ok. Ho fatto bene ora. Dovevo sparare. Non ci ho pensato. Poi qua. Non si può neanche morire. Cioè. Va leggermente giù. Ma poi non si cade. Cioè. Vedete. Non cadi. Cioè. Hanno. Si sono dimenticati lì. Di levare il. Come si chiama. Di levare il pavimento. Vabbè. Allora. Oh mamma mia. Sono davvero un pezzo. Dai forza. Devo muovermi. Ok. No. Oh. Grazie mille. Amici di sogno. Amici di sogno. Alleati. No. Ok. Io voglio avere un po' di Jamal Bam. Allora. Al posto di te. Perfetto. Scendi. Si può cambiare elemento? Cosa fa Susie Buffera? Ah. Spara verso l'alto. E basta. Vabbè. Ehm. Tanto per. Come no? Ah. Devo avere per forza Buffera? No. Non funge. Che devo avere? Perché di qua c'è di sicuro qualcosa. C'è di sicuro cosa? Allora. Devo avere lama? Maremma. Un attimo eh. Fatemi pensare. Ehm. Ok. Furia d'urto. Non può essere. Accumulo carica? Un attimo. Ehm. Ehm. Sì. Ho capito. Devo utilizzare. Ehm. Il robot Suzy. Il robot Suzy. Suzy bot. Insomma. Il problema è che il Suzy bot non può volare. Quindi ha un gran problema. Intanto c'è guardate quanto è veloce Suzy. C'è una saetta. Allora. Devo avere l'elemento ghiaccio. L'elemento vento. No. No. Ah. Come si fa? Aiuto. Aspetta. No. Forse ho capito. Ehm. Devo levare. Un secondo. Come si leva? Ehm. Suzy bot. Suzy bot. Ypsilon. Oi oi. È un gran problema. Intanto riattivo. Grazie. Ok. Scusate se ci metto del tempo ma davvero. È un po' lunga questa cosa. E sono solamente a 17 cosi. Quindi mi sa ne ho mancati un po'. No. Come si fa? Ok. Ho capito. Bisogna avere proprio il vento. Anziché. Ok. No. Questo non funge. No. 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 Oioi. Vi ho distrutto i timpani. Lo so. Mi dispiace. Oioi. Dai. Ci ho messo un secolo. Ci ho messo un secolo. Non sapete quanto. Oioi. Ho dovuto fare un taglio enorme. Oioi. No. No. Ok. Basta premere L o R. Mamma mia. L'ho scoperto tipo due morti fa. Oioi. Allora. No. No. Calmi tutti. Calmi tutti. Calmi tutti. Calmi tutti. Posso andare da qua sotto. Dai. Oh. Ce l'ho fatta. Che poi quello non bisogna romperlo. Perché sennò cade tutto. Oioi. Ce l'ho fatto. Ho preso il diciannovesimo. Oioi. Ce l'ho fatta. L'ho finito il puzzle. Non sapete da quanto sono qui. Sono qui da troppo. Sono a cinquanta minuti. Oioi. Sono qui da... Sono qui a cinquanta minuti di video. Che provo solo questo. Oioi. 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 Ok. No. Oioi. Non è possibile. Dovevo usare B. Devo utilizzare SusiHack o SusiElectro. Cioè ormai parlo perché davvero guardate. Sono a più di cinquanta minuti da un casino. Ok. Sembra che devo usare SusiElectro. Perché questo coso rimbalza. Aiuto. No. Ok. No. Grandi amici. Grandi amici. Grandi amici. Me lo dice anche il gioco. Usa l'Electro. Ora sta a vedere vado di là. No. Non è possibile. Susi è troppo difficile. Sono a un'ora ora. Sono a un'ora adesso. Cioè. No. Dai. Io devo tagliare mi sa quaranta minuti di tentativi. Non è possibile. Oioi. Ok. No. No 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 no. Ok. Forza. Distruggetelo. Ok. Ce l'ho fatta. Sì. Ma scherzi. Vero. Cioè. Mentre c'è la battaglia. Devo andare con questo. Ok. Vai. Al posto di talpagallo. Ok. 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 Sono a 22. Mi manca otto cuori. Oioi. Non ce la faccio più. Oioi. C'ho le braccia a pezzi. Non sto scherzando. Ok. Ho qualcosa da dare a sgocciolo. Sgocciolo. L era. Oioi. Ok. Ok. Le meteore. Io le odio. Le meteore. Ok. Sta a vedere dentro una di queste. C'è un qualcosa. Ho bisogno di te. Ah no. Io ce l'ho. Che dico? Se sono andato avanti. E c'era un cuore. Giuro. Non sapete la mia rabbia. Quanto può salire. Cuore. Ok. L'ho visto. Ok. Di qua non c'è nulla. Di qua c'è questo. Accidenti. Ok. Ho trovato un cuore. Ne mancano solo sei. Preso il cuore. No. Ne ho perso uno. Non mi importa. Questo video può anche arrivare a due ore. Ma davvero non devo perdere assolutamente neanche un cuore. Ok. Qua c'era un cuore. Accidenti. Eccolo. Ok. No. Giuro che sto per rompere la console. Perché davvero. Guardate. Ne mancano solo tre. Solo tre ne mancano. Dai. Ti prego. Sto delirando. Non ce la faccio più. Ok. Ce n'è uno. Accidenti. No. Sì. Questo come fa. Gioco. Ti prego dimmi che non mi hai fatto mancare nulla. Ti prego. Me ne mancano solo tre. Me ne mancano solo tre. Ti prego. Ti prego gioco. Me ne mancano tre. No. Le ho mancati. Ho mancato tre cuori. No. Ho mancato tre cuori. Non ci credo. Dai. Tra tutto. Ho mancato solo tre cuori. No. No. Ho 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 ho. Solo te sei la mia. La mia gioia Meta night nero Cioè dai Tra tutto Tra tutto ne ho mancati solo tre alla fine Dai non ci credo O sono qua da queste parti Dai ultimo boss Ok King Dedede O meglio un altro Dedede Quanto è brutto però Ok Può aspirare nemici E fa anche gli shockwave Wow questa è davvero forte Dai Era meglio se levavo la mia abilità però Ok anche io posso fargli shockwave eh No 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 dai sputami No Ho sputato l'abilità Non ci credo Cioè ora devo Combattere aspirazione contro aspirazione Non ci credo Abilità acqua Vieni qua Che nooo No No Ok 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 Non crea I cosi Ok Ricordo che il cibo Lo possiamo tramutare In roba buona da mangiare Mamma mia Che attacchi sono No 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 Ah Dimensione 4 Ben fatto, un corno ben fatto, volevo fare tutto perfetto Vabbè 27 su 30 20 pezzi E off camera ho completato l'altro ritratto L'altra L'altra foto Insomma, l'altra immagine Ok Questo che è? Vabbè Dimensione 4 27 su 30 La prossima volta che giochi Puoi iniziare da qui Esco Però Hai 100 più cuori amici I cuori amici che hai trovato Possono fare la differenza Che Cosa ti aspetterà Nella dimensione finale What? Un ultimo livello No 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 Ancora un episodio Va bene Va bene Quindi Nel prossimo episodio Di Kirpistar Allies Continueremo Eroi in una dimensione parallela Pensavo fosse l'ultimo episodio Invece no Quindi Ci vediamo Nel prossimo episodio Dove Spero di finire Eroi in una dimensione parallela Quindi Alla prossima Ciao Ciao No 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 No